C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è nessuno? Tirate via le palle per cortesia! Tiratevi le palle è un'espressione un po' come dire... Che cosa sono quelle? No bisogna toglierle, togliere, toglieri dalle... No! Buongiorno! Begolino TV è quello! Begolino TV ci siamo anche stamattina, scusa vicinti, vieni qua un attimo vicino, scusa eh? Vieni, vieni, vieni! Ma ancora! Oh lo scartore che si è abbassato! Scusa eh? Scusa perché oggi facciamo qualcosa di diverso, patti da pietra colore che continua a mandarci il fratello ricco di Begolino, perché noi abbiamo quello povero! E praticamente Gianluca Vacchi dei Begolini è qua! Assolutamente! Lui come vedete è vestito da Babbo Natale! Grazie patti! Ciao ciao ciao! Io sono quello povero! Ciao ragazzi! Ciao sono bello! Begolino! La smetti di fare lo scendolo? Allora facciamo il riassunto di stamattina veloce perché voi... Riassunto di stamattina! Praticamente non abbiamo fatto niente come al solito, il programma La Strana Coppia è improntato sul nulla però da qualche giorno, da ieri, siamo con i nostri parenti, vengono a trovarci, Natale con i tuoi, stamattina è venuto, come si chiama? Fabio! Fabio! Ma come come si chiama? Ignorante! Fabio Santulini! Fabio! E la cosa importante che ci ha portato è Gli Amaretti! Eccolo qua! Belli! Più che belli, buoni Gli Amaretti! Diamo un voto perché abbiamo promesso che ogni giorno daremo un voto alle cose che portano! Scusa mi dicono che non c'è sottofondo musicale! Ah, c'è la conoscenza sonora, vai! Uh, canzone digitale! E noi stamattina cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiede, adesso ci arriviamo, ci arriviamo! La Maraglia! La Maraglia! La Maraglia! Dopo diamo il voto agli Amaretti, stamattina abbiamo fatto il sondaggio tra gli ascoltatori, preferite Maraglia Carey o preferite Michael Bublé? La Maraglia è uscita rotta! E se che hanno preferito tutti Michael Bublé! Michael Bublé, io continuo a preferire Maraglia Carey! Musicalmente! Grande nave suola Maraglia Carey! Ma non è musicalmente, diciamo che fa molto Natale Maraglia Carey! Ma molto di più Michael Bublé! Ma non è perché lei ha la struttura natalizia! Sei il solito maiale! A Natale eccetera eccetera! Natale con il cuore! Allora, vogliamo fare questo deciso! Torniamo il voto per il prodotto portato dal nostro parente ascoltatore, come si chiama? Fabio! Ma come si chiama? Il parente ascoltatore! Io darei un 7 e mezzo! Ma come mai 7 e mezzo? Egi, mio collega! 8 per la bontà! Quindi al pari del rotolo alla Nutella! Sono amaretti parlato molto buoni! Amaretti di Spilamberto traditional! 8 per la bontà! Ma 7 e mezzo perché non li ha fatti lui! Ah! È vero! È vero! Il prodotto di ieri l'aveva fatto Eri! Quindi invitiamo quelli che verranno! Non domani perché domani è festa! C'è la versione light! Limited edition! Dalle 7 alle 10! Venerdì ricominciamo con gli ospiti! Allora quelli che vengono devono venire con prodotti naturali! Fatti da loro! Bravo! Perché hanno un punteggio più alto! Sì! E quindi magari non so anche se è avanzata la melanzana e la parmigiana della sera prima! L'impefata di cozze! L'impefata di cozze! L'impefata di cozze! L'impefata di cozze! Torna domani! Ringraziamo tutti quelli che seguono questa inutile televisione! Vi facciamo salutare da Begolino immerso dentro agli amaretti! Ciao! Ciao! E te che c'è Begolino TV qua! Begooria, Begooria, Begooria Ciao, ciao, ciao